Di Pasquale pronti via e subito hai fatto capire a Chiricò che la serata era complicata per lui, poi peccato il risultato. No, peccato il risultato perché eravamo partiti molto bene, noi abbiamo preparato la partita nella maniera giusta. Secondo me il primo tempo meritavamo di essere in vantaggio, poi dopo il secondo tempo siamo calati un po' ed è venuta fuori la qualità del Catania. Buccaro ha detto che non era un problema fisico, a me era sembrata una squadra forse un po' calata dal punto di vista dell'intensità, secondo te perché nel secondo tempo meno bene? Il Catania è una squadra costruita per vincere, poi attualmente si trova decima nel girone C, noi abbiamo iniziato benissimo la prima mezz'ora, meritavamo il vantaggio, poi è uscita anche fuori la qualità del Catania. Come è stato tornare in campo dal primo minuto in uno stadio così? No, no, bellissimo, bellissimo, è uno stadio bellissimo questo, ci ho giocato contro tante volte, è sempre bello giocare. Ti chiedo l'ultima cosa da parte mia, ma che era successo in quel mese di ottobre, novembre, in cui Mr. Zeman, che salutiamo naturalmente, ha detto che non ti vedeva ancora il di Pasquale di Foggia? No, 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 assolutamente, non c'è nessun tipo di problema, ho una grande stima del mister, quindi quando noi siamo tutti a disposizione sua non c'è nessun problema. Massimo per Di Pasquale. No, io voglio fare complimenti a Di Pasquale perché non è facile attendere il proprio momento, anche perché lui è un protagonista di questo campionato, l'abbiamo visto al Foggia e non solo, anche a San Benedetto. Questa è la quarta partita, terza di Coppa Italia, in campionato hai giocato soltanto 11 minuti proprio nell'ultima partita a Casalinga con l'Olbia. Ecco, a questo punto ti candidi in modo autorevole direi, no? Io sono a disposizione della squadra, quindi assolutamente non c'è nessun problema, l'importante è che la squadra vada avanti, siamo terzi in campionato e questa è la cosa che conta di più. Ti chiedo io due cose proprio per chiudere, so che sei sempre molto sincero con le risposte, con questo minutaggio così basso in campionato hai fatto un pensiero a gennaio che vuoi giocare di più? No, 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 assolutamente, sono un giocatore del Pescara e sono contento di rimanere qui. Cosa ti ha detto Pippo Pellacani del ginocchio? Ci puoi dire qualcosa in più? No, non so, ancora non l'ho sentito perché sta facendo le cure, quindi non l'ho sentito.